E alla fine è scattato il bacio, i rumors sono stati confermati dai fatti, ad amici è nata la prima coppia. Intanto arrivano le prime indiscrezioni sulla puntata di Domenica dove, con molta probabilità, ci sarà una nuova eliminazione. A quanto si apprende la maestra Alessandra Celentano ha sospeso la maglia ad Alessia. La giovane ha svolto il compito dell'altra insegnante Deborah Lettieri, ma si è beccata un voto zero dalla Celentano. E ora, fino al momento in cui quest'ultima non prenderà un'altra decisione, la ballerina dovrà rinunciare alla trasmissione. A proposito di Adi, fa ancora discutere quello di Francesca Tocca al cui posto è entrata Eleonora Riccardi, 31 anni, di Roma che prima di approdare nella scuola più famosa della TV insegnava alla scuola Tempio Danza di Ruvo di Puglia, provincia di Bari. Secondo alcune Vogue Francesca Tocca avrebbe lasciato il programma, per amore, non ha voluto lasciarlo solo. Amore come quello che sembra nato tra Trigno e Chiara, che sono stati pizzicati mentre si baciano davanti alle telecamere. Che tra loro ci fosse qualcosa se ne erano accorti in tanti. Scriveva Isechia, stiamo parlando della ballerina Chiara Bacci, per la quale il cantante potrebbe nutrire un certo interesse, come notato anche dai fan della trasmissione, che sui social hanno subito fantasticato sulla nascita di questa potenziale coppia, dedicando loro anche degli edit. Un feeling che sarebbe stato notato, appunto, anche dalla fidanzata di Trigno e Gessenni Monaco.